Da oggi è un grande giorno. Il progetto Eigennet, partito nel 2010, è arrivato alla conclusione e tutta la città di Pisa è interconnessa da una rete Mesh. Le ultime resistenze che impedivano la libertà nell'uso della rete sono finalmente cadute. Da ora la rete siete voi. Non siamo più solo clienti dell'informazione, ma ogni cittadino diventa un nodo reale della rete. Ognuno può inventare e offrire i propri servizi e al contempo riceverne degli altri. Tutto ciò apre la strada a nuove economie, nuove reti sociali, nuove forme di condivisione e nuovi modi di vivere e di socializzare. Questo, signori, è il nostro futuro. L'energia non verrà più da megacentrali, ma da microgeneratori in ogni casa. Il cibo non verrà da giganteschi distributori, ma dalla collaborazione locale di piccoli improduttori. Allo stesso modo abbiamo attuato il futuro dell'informazione, della conoscenza e della condivisione. Adesso è il vostro momento. Dovete solamente cambiare rete.